Manu, sei pronto per oggi? Dove andiamo oggi? Allo stadio! Ascolta, ma sei carico? Sì! Per tifare il mina? Sì! Ma fammi sentire una canzone, noi facciamo? Noi facciamo chilometri o superiamo gli ostacoli o col diavolo in fondo al cuor. Poi? Ci facciamo i chilometri o superiamo gli ostacoli o col diavolo in fondo al cuor. Allora oggi? Milano! Mi raccomando eh! Bisogna cantare oggi eh! Diavoli rossoneri! Tensione alle stelle, la tensione si taglia col coltello. Questa sera saremo a San Siro e porto mio figlio per la prima volta a San Siro a vedere il Milan. E ho scelto la partita migliore, una delle partite più importanti dopo tanto tanto tempo perché erano tanti anni che il Milan non giocava una partita così importante, non si respirava un'aria così importante. Oggi ci sarà il delirio, oggi ci sarà un clima veramente tosto a San Siro e noi siamo là per caricare la squadra. Nel nostro piccolo faremo il possibile con il bimbo. Ragazzi ci vediamo per chi vuole fare due chiacchiere. Gate 12! Intorno alle quattro e mezza noi saremo lì e poi entriamo allo stadio. Vi voglio bene a tutti, sempre Forza Diavolo! Occhio al canale perché oggi vi tengo aggiornato su tutto quello che sta succedendo fuori e dentro San Siro.